Il gruppo è stato del tutto rinnovato, ma la certezza principale è ancora lui, Stefano Saglieri. Al suo quarto anno sulla panchina della Sigeco, l'allenatore Bianco Rosso Blu punta ancora una volta una grande stagione in A2 per una società che ha l'ambizione di restare nella massima serie. Ripartiamo con un ciclo nuovo, perché per vari motivi il gruppo di ragazzi che ci ha portato a due play-off consecutivi, che sono stati due campionati entusiasmanti, due grandi campionati, e adesso abbiamo dovuto riazzerare tutto. Ripartiamo nell'anno più difficile del torneo, perché era più di vent'anni che non si vedeva una A2 di così alto livello. E noi ripartiamo con un gruppo più giovane, un gruppo nuovo, a livello del Girono Rosso, che il nostro è di altissimo profilo. e ci sono sette squadre che, o per motivi di fattore campo, perché ci sono pubblici importanti, mi viene in mente Fortitudo, Cento, Udine, Trieste, tutti i campi dove il fattore campo si sente, e per qualità di organico e profondità di organico, sono sette squadre che sono di un livello superiore. Siamo in cinque, che ci si gioca l'ottavo posto, che è l'ultimo per i play-off, e ci si gioca la salvezza. Che cosa rappresenta la SIGECO per lei dal punto di vista personale e anche professionale? Con una squadra così giovane la figura di allenatore assume un ruolo ancora un po' più importante. ne sono consapevole e ho la voglia e soprattutto l'ambizione di dare tutto a me stesso, di fare bene. Sarà un anno difficile, però un anno estremamente stimolante, proprio per questo.